Decreto riconvertito e legge ormai sulle agevolazioni fiscali. Salve, buongiorno. Dunque, è entrata in vigore la legge di confersione del decreto che riguarda le agevolazioni fiscali per tutti i soggetti che sono ricompresi nei comuni del primo e secondo cratere, se vogliamo chiamarlo così. Ricordiamo quali sono i comuni, in un primo tempo erano, della nostra provincia naturalmente, in un primo tempo erano stati inseriti i comuni di Valle Castellana e Rocca Santa Maria, successivamente estesa queste agevolazioni ai residenti e alle ditte, chiamiamole così, operanti nei comuni di Cortino, Crognaleto e Montorio. Infine, con l'ultimo decreto, il decreto 189 del mese di ottobre, entrato in vigore il 19 di ottobre, le agevolazioni sono state estese al comune di Teramo, poi vedremo in maniera soft, ai comuni di Campli, Civitella, Torricella, Cortino e Crognaleto, che le avevamo già nominati. Le agevolazioni principalmente riguardavano la sospensione del pagamento dei mutui, di tutti i tipi di mutui, anche dei leasing immobiliari riguardanti i beni mobili, fino al 31 dicembre 2016. È stata prevista la sospensione anche del pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio. L'agevolazione principale per tutti i soggetti che hanno la residenza nel cratere, oppure la serie delle attività nei comuni previsti appunto da questo decreto, è la possibilità di sospendere tutti gli adempimenti fiscali e contributivi fino alla data del 30 settembre. In che cosa consistono questi adempimenti? Quindi la possibilità di presentare le dichiarazioni di redditi. Sono sospesi soprattutto tutte le azioni fino al 31 dicembre, tutte le azioni esecutive e di riscossione previste da Equitalia e dall'Agenzia delle Entrate. Per quale motivo? Lei prima ha parlato Teramo in versione soft. Teramo in versione soft perché purtroppo al nostro comune non sono state riconosciute le stesse agevolazioni previste per gli altri comuni. Il motivo? Mi spiego meglio. Solo per i soggetti danneggiati che dimostrino l'inagibilità del proprio fabbricato potranno accedere appunto a queste agevolazioni e quindi non pagare i contributi previdenziali o le eventuali altre tasse fino al 30 settembre. Quindi poi ci sarà la ripresa della riscossione a partire dal mese di ottobre 2017. Per quanto riguarda le attività commerciali? Per quanto riguarda le attività commerciali l'agevolazione principale riguarda appunto, parliamo sempre di soggetti che hanno o la residenza o la sede della propria attività nei comuni che ho citato prima, la possibilità di non pagare i contributi previdenziali. A tal proposito è stata pubblicata nel mese di ottobre una circolare INPS esplicativa e quindi invitiamo tutti a rivolgersi al proprio consulente di fiducia. La sospensione di tutti i versamenti, tutte le azioni esecutive da parte dell'INPS fino al 30 settembre 2017. La ripresa avverrà dal mese di ottobre con la possibilità di pagare anche in maniera rateale da 1 a 18 rate mensili. Per quanto riguarda invece le altre agevolazioni fiscali, quindi il pagamento delle imposte per tutte le ditte appunto rientranti nei comuni del cratere, l'agevolazione prevista è quella della sospensione di tutti gli adempimenti tributari e fiscali fino al 30 settembre. Siamo in attesa di un apposito decreto che stabilirà le modalità del pagamento, anche in questo caso è possibile pagare in unica soluzione a partire dal mese di ottobre 2017 o anche qui in maniera rateale da 1 a 18 rate.